E' uscito il bonus vacanze, pensa che lo richiederà? No, devo lavorare tanto. No, non penso anche perché non ho i requisiti per poterlo fare. Durante la quarantena ho lavorato meno, quindi penso di recuperare un po' così. Io no, intanto non si va in vacanza, perché la crisi è... di bisogno lavorare. Previsto nel decreto rilancio, arriva il bonus vacanze. Introdotto con l'obiettivo di aiutare il settore turistico, si tratta di un contributo da spendere per soggiorni in alberghi, campeggi, bed and breakfast e altre strutture ricettive, esclusivamente in Italia e a patto di non prenotare attraverso intermediari come ad esempio Booking. Per poterlo richiedere va scaricata l'apposita applicazione Io, serve lo Speed o la carta d'identità elettronica e un ISEE inferiore a 40.000 euro. L'entità prevista del bonus arriva ad un massimo di 500 euro per le famiglie di almeno 3 persone, 200 per le coppie e 150 per i single. L'80% della cifra a cui si ha diritto si potrà scalare dal prezzo della camera, mentre il restante 20% si dovrà detrarre al momento della dichiarazione dei redditi. Bisogna averci la testa per pensare le vacanze, ancora ho altri problemi importanti da risolvere, poi so che un albergo 3 su 100 accettano questa cosa, quindi è tutto da vedere. Critiche verso la misura, molte strutture alberghiere, che dovranno scalare l'entità del bonus dalle proprie tariffe standard per poi essere rimborsate dallo Stato. Ma dopo il lungo periodo in cui sono state chiuse, non tutte se lo possono permettere. Il meccanismo rovescia sugli albergatori, su quelli che sono gli imprenditori, l'80% della somma erogata, dei 500 euro, che a questo punto diventa una detrazione di imposta. Questo è uno dei motivi per cui si teme che non sia uno strumento particolarmente efficace.